Buongiorno bella gente, dal pelo lungo e dalle corna belle. Registro questo video esattamente dieci minuti dopo essere uscito dal cinema. Quindi vi sto parlando non a caldo, di più, di più su questo film. Che dire, che dire di The Marvels? È un film, alcuni lo hanno definito inutile, è un film mediocre, è assolutamente un film mediocre, con un buon bilanciamento. In che senso un buon bilanciamento? Da una parte c'è una marea di merda che sminchia totalmente quello che è stato fatto finora in alcune serie televisive e film. Dall'altra parte c'è un prodotto fresco, leggero, che si lascia guardare bene. Quindi da una parte c'è il pubblico leggero che va a guardare questo genere di film spegnendo il cervello e sarà un film che darà tanti punti di domanda, ma sarà un film divertente, godibile, con un bel ritmo, con alcune idee anche abbastanza interessanti. Poi però, se uno lo guarda con l'occhio dell'appassionato Marvel, ci sono degli enormi problemi, giganteschi, giganteschi. C'è una cosa che ve l'anticipo adesso, poi ne parlerò dopo. Io ho uscito da questo film, mi sono incazzato come una bestia, perché è stato registrato probabilmente o in contemporanea o prima, delle registrazioni, delle riprese di Secret Invasion. E ragazzi, non è possibile. Cioè, ma gli sceneggiatori tra un'opera e l'altra non si parlano neanche. Cioè, questo film sputa in testa a Secret Invasion, che già non è che vivesse di grandi glorie, ma questo film gli caca in testa. E non a livello qualitativo, a livello di informazioni narrative. Cioè, prende Secret Invasion e gli dice Ciao, eh! Bona! Andata! Ok? Una roba del genere. No, 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 no! Fino adesso, fino alla fase 4, la Marvel aveva costruito un universo coeso, un universo unito, dove, sì, c'erano state alcune cagate in giro, ma era perlomeno un universo che stava in piedi. Adesso, dopo questo film, ho un problema. Cambia tutto, cambia tanto. Cambia tanto. Ma partiamo un attimo dai presupposti. Allora, per me rimane un film godibile, divertente, con alcune scelte stilistiche, secondo me, molto piacevoli. In primis, parliamo delle tre attrici protagoniste. Cioè, parliamo di Iman Bellani nel ruolo di Kamala Khan, parliamo di Tiona Paris nel ruolo di Monica Rambeau, e parliamo di Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers. Allora, Iman Bellani buca in tutte le maledettissime scene in cui compare. La figura di Kamala Khan è colei che tiene in piedi l'intero film. Perché è una figura leggera, divertente, piacevole, che detta i ritmi, che detta le gag, che riesce a cambiare le atmosfere, da atmosfere pesanti ad atmosfere leggeri, da atmosfere, a volte anche noiose e cervellotiche, ad atmosfere divertenti, rapide, snelle. Eh, la figura di Kamala Khan è sempre stata scritta bene, però ha un problema. Io ero seduto, per esempio, al cinema di fianco a gente che non aveva mai visto le serie televisive di Disney+. E questi, sia all'inizio che alla fine, hanno chiesto, ok, ma quest'altra da dove salta fuori? E quest'altra da dove salta fuori? Perché è un film chiaro e tondo che, se non hai visto Miss Marvel e VandaVision, tu praticamente non sai i presupposti di partenza. È un secondo tempo di un primo tempo nato nelle serie televisive. E ci può stare che tu voglia fare un prodotto, tu, Marvel, voglia fare un prodotto di questo genere. Però, nel momento in cui tu crei un prodotto che deve essere per le masse, perché è un blockbuster, la prima cosa che devi fare è pensare anche a quel pubblico che non ha potuto vedere su Disney+, le due serie. Quindi devi ragionare con l'idea di introdurli i due personaggi. Quindi di farmi capire chi è Kamala Khan e da un certo punto di vista un po' l'introduzione minima ci può stare. Ma la figura di Monica Rambeau è praticamente messa in terzo, quarto, quinto, ultimo piano. Cioè, è una figura in cui dice due battute, racconta due cose, che fa riferimento a VandaVision, bene, ok, abbiamo finito l'introduzione. No, no. No, introducilo il personaggio, fai vedere come ci arriva lì, fai vedere che ha un'origine, qualcosa. Cioè, prenditi dieci minuti di più per approfondire, per introdurre le due figure principali, le tre figure principali. Perché le tre figure principali sono buttate a schiaffo in scena senza avere approfondimento. E, se per Kamala Khan c'è una serie di riferimento a cui accollegarsi, bene. Per Tiona Parris c'è un'altra serie di riferimento, quindi per Monica Rambeau c'è un'altra serie di riferimento, è ok. Ma per la figura di Miss Marvel, di Captain Marvel, scusate, perché qui ci si confonde, non c'è. Non c'è. C'è. Quello che noi sappiamo della figura di Carol Danvers sono tanti spizzicchi e bocconi che scopriamo nel corso dei film perché, essendo un tank troppo grosso per agire e perché è veramente un mamma santissima, gli devono dare poco spazio. Gli è andato poco nel corso dei film, a parte Captain Marvel, dove lei aveva praticamente l'interesse, era interessante come un comodino, per Dio, e il ruolo di mattatore lo faceva Samuel L. Jackson con il suo Nick Fury, qua perlomeno si è tolta un po' di legnosità, ci sono alcune scene, secondo me, che danno anche grande lustro alla figura di Brie Larson e alla sua attorialità e al suo essere un'attrice completa, però ha un personaggio che è stato scritto da cani. Perché onestamente, hai una figura che è addolorata, distrutta, le sue gesta hanno dato vita a un conflitto trentennale che ha devastato un pianeta e dove gli abitanti di quel pianeta fondamentalmente vivono in un luogo che è inospitale, dove l'aria è irrespirabile, non c'è acqua, non c'è luce del sole. Perché? Perché fondamentalmente ha fatto collassare chi governava a questo paese. Ma per Dio, ma fammelo vedere in introduzione questa cosa. Prenditi dieci minuti di più e introducimela. Cura il personaggio di Captain Marvel e fai un personaggio che vuole lavorare da sola perché ha i sensi di colpa e non vuole lavorare con gli altri perché si sente in colpa per i gesti che ha fatto, per ciò che ha fatto, che si muove per salvare le nazioni, i paesi, i pianeti, per il semplice fatto che lei si sente in colpa. ma ci vuole veramente poco. Anche perché per tutto il resto del film, a parte alcune cose, lo si vede poco. Cioè, lo si capisce alla fine del film con due battute e buona. Eh no, ma la devi mettere in piedi questa roba. È un'informazione importantissima che ti deve tenere in piedi l'intero film. Se tu questa cosa non la inserisci, no, 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 no. Un'altra cosa, Nick Fury e i genitori di Kamala Khan, fondamentalmente non servono nulla. Ci sono quattro figure che stanno lì, ok, va bene, per avere un collegamento è buona. Poi, chiaro, sono quattro attori che nei loro ruoli di sottofondo sono autentici mattatori e quando sono in scena sono meravigliosi per smorzare la tensione. però hanno poco, cioè, Nick Fury ha pochissimo peso e ha pochissimo senso. Anche nell'ottica di Secret Invasion ha pochissimo senso. Anzi, anzi, Nick Fury è proprio la cosa che fa incazzare di più. E poi abbiamo il cattivo. Il cattivo è interpretato da Zoe Ashton e questa sua Darben che è una una sorta di governante che è uscita fuori da non si sa dove e ha dominato la praticamente il pianeta Creed dopo tutte le guerre. Va bene. E ha trovato su un pianeta a caso l'altra negabanda l'altra banda quantica arma quantica come la chiamano. Però veramente cioè è un personaggio che se tu costruisci bene le premesse di di Captain Marvel e della distruzione di Ada è un personaggio che ha un senso il problema è che è un personaggio piatto monotono un cattivo che non dà interesse non ti fa neanche venire voglia di prenderlo a schiaffoni perché è un cattivo anonimo 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 nel design tant'è vero che unisce due cose una da da Ronald accusatore dei primi guardiani della galassia cioè questo martellone degli accusatori e il bracciale che è anche Kamala ok per il resto è una figura totalmente anonima totalmente vabbè ok Zoe Ashton non è che gli dia tutto sto peso come personaggio quindi no assolutamente no quindi a livello attoriale quest'opera viene tenuta letteralmente in piedi da Kamala Khan a livello di scrittura dei personaggi questo film viene tenuto in piedi da Kamala Khan totalmente totalmente tant'è vero che le situazioni principali girano intorno a Kamala perché le situazioni di Captain Marvel sì hanno importanza ma senza Kamala non hanno senso punto 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 sul lato registico e di montaggio che dire ci sono i dieci minuti iniziali che non ci sono si sentono poi però ci sono alcune anche le scene di scontro con questa cosa che viene anche fatta vedere nei trailer cioè i tre personaggi che quando usano i poteri fondamentalmente si scambiano di posto è divertente è piacevole da adito anche ad alcune scene molto divertenti molto piacevoli anche innovative da un certo punto di vista nella regia dei combattimenti perché poi questa scena funziona fondamentalmente nei tre quattro combattimenti importanti che ci sono all'interno del film e allora sì è carino vedere soprattutto gli inizi dove gli scambi sono assolutamente casuali e quindi vedi i personaggi che ci provano ma devastano la malora proprio perché si interscambiano a caso e quindi distruggono tutto poi pian pianino quando le situazioni e i poteri e le abilità si iniziano ad armonizzare il gruppo si armonizza diventa anche meno confusionario l'utilizzo proprio di questi scambi e diventa anche molto più chiaro molto più chiare le scene di combattimento soprattutto nella parte finale ma ci sta è proprio fatto in modo da gestirsi con il miglioramento e la comprensione di questi switch di poteri e va bene e va bene così arriviamo al lato narrativo come già vi dicevo alcune cose interessanti ok alcune cose che sono una merda ci sono due problemi enormi due problemi enormi e qua faccio spoiler ma prima di fare spoiler ragazzi scusatemi mi fermo un attimo prima di fare spoiler se siete arrivati fin qui iscrivetevi al canale attivate la campanellina vuol dire che bene o male vi piace questo canale e lo volete diffondere quindi condividetelo mettete un like se vi è piaciuto il video o un dislike se vi ha fatto schifo il video scrivetemelo nei commenti quindi aiutate questo canale a crescere conta su di voi conta assolutamente su di voi io posso scrivere i video fare le cose ma se non ci siete voi a guardarle a diffonderle io conto poco andiamo avanti le due situazioni più problematiche dell'intero film la prima la prima ed è spoiler il film gira tutto su questa coppia di megabande o le bande quantiche armi quantiche quello che è cioè una ce la Kamala l'altra ce la Darben e va bene e Darben praticamente lo utilizza caricando la ignoranza con i poteri degli altri per poi utilizzare questa banda da sola per aprire delle incursioni aprire dei passaggi spazio-temporali che dovrebbero trasportare oggetti da una parte all'altra dell'universo va bene l'idea ci sta ci può stare poi però mi devi spiegare perché nel momento in cui per tutto il film queste aperture creano un passaggio da una parte all'altra dello stesso universo narrativo quindi da dove si trova a Ala perché alla fine del film in un certo quel modo apre uno strappo verso un altro universo così a caso non ha senso c'è un conto e mi dici ok vengo a ciuppare il sole della terra della nostra galassia e lo mando per accedere il sole su Ala va bene però non ha senso che tu apra un passaggio per aspirare il sole e poi non va su Ala ma fondamentalmente va su un altro universo parallelo perché me lo devi spiegare perché per sbaglio si è aperta una porta su un universo parallelo invece che aprirsi su Ala sul sole di Ala così come mi dovresti spiegare perché da una banda che hai imparato a utilizzare o che hai preso da poco tu sei in grado di utilizzare immediatamente il potere quindi ah ok aspiriamo l'aria di qua e mettiamola esattamente lì va bene ma l'aria occupa tutto lo spazio tutto il volume e va bene prendiamo l'acqua da un pianeta che ha il 99% di acqua e il portale si apre esattamente laddove c'era il mare prima cioè il portale da una parte si apre a caso dall'altra parte si apre esattamente dove si deve aprire non è un caso che magari non si apra esattamente sopra alla città principale e inondi l'intera città no da una parte è casuale dall'altra no cioè sono delle leggerezze che non stanno in piedi non stanno realmente in piedi e l'altra enorme enorme leggerezza sempre legata a queste negabande è che Darben fondamentalmente si autodetona prendendo tutte e due le bande mettendosele indosso e queste come le gemme dell'infinito quando le usi praticamente la bruciano e la inceneriscono bene per quale fottutissimo motivo allora due minuti dopo due anzi forse meno Kamala prende tutte e due le negabande se le mette agli polsi e non detona e poi quando scende sulla terra ce ne ha solo una questa me la devi spiegare questa la devi spiegare perché Kamala è viva mentre l'altra è detonata Kamala è una terrestre e quell'altra è una Kree tecnicamente come Kree oltre al fatto che combatte con Captain Marvel e Captain Marvel è un carro armato onnipotente mi devi spiegare già lì come fare esistere a un carro armato onnipotente ma mi devi spiegare come quello là quella là che è praticamente una Kree e quindi fisicamente è più forte di un'umana normale detoni mentre l'umana no perché non è chiaro non è assolutamente chiaro e che fine fa la seconda negabanda perché quando viene sulla terra Kamala non ce l'ha la seconda ha solo la sua cioè sono delle leggerezze che non stanno né in cielo né in terra vediamo veniamo all'altro elemento che per me è problematico l'altro elemento problematico è Nick Fury Nick Fury ha un enorme problema perché chi ha visto Secret Invasion ha visto un un Nick Fury invecchiato imbolsito con una stanchezza enorme nei confronti del mondo che non è il Nick Fury che è partito dopo dopo Spider-Man dopo l'ultimo Spider-Man che era partito ed era andato nello spazio qua compare ed è più giovane più attivo più scattante più positivo va su e giù dal mondo battendosene fondamentalmente il belino di quello che succede agli scroll sulla terra e battendosene il belino degli scroll di un pianeta che viene detonato male quando se sai che in quel pianeta lì c'è già un c'è già praticamente una parte della razza scroll perché non prendi gli scroll e li mandi lassù c'è già un pianeta abitato da scroll per quale motivo gli scroll della terra rimangono lì c'è un altro regno di scroll su un altro pianeta e ce l'hai è lassù ce l'hai cioè manda in vacca completamente il presupposto perché è un presupposto e Captain Marvel conosce quel pianeta quindi manda puttanea questo presupposto perché in più se è facile trasportare perché a un certo punto Carol Danvers chiama chiama Valkyrie Valkyrie arriva col Bifrost carica carica tutti e come davvero tassista di fake taxi praticamente li porta da un'altra parte bene magari su un altro pianeta perché non è stata fatta la stessa cosa con gli scroll che sono sulla terra quando quando lo hai fatto con gli scroll di un altro pianeta quindi hai trovato una casa immediatamente a quelli cioè è un film che è completamente sputtana una serie che ha avuto un rating bassissimo un'utilità ancora più bassa però così diventa veramente merda che caga merda a chi devo credere devo credere e poi soprattutto dove si posiziona Secret Invasion si posiziona dopo ma allora come fa a tornare su Nick Fury cioè Nick Fury alla fine del film è praticamente in forma non è un vecchio bolso quindi scende cioè scende che è in forma arriva giù sulla terra vecchio bolso si ripiglia poi torna su di nuovo giovane di nuovo a posto strong forte convinto se è prima è andato su giovane e forte scende bolso torna su forte perché a metà non può scendere perché a metà gli detonano praticamente l'astronave saver quindi non ha modo di scendere è un problema enorme il problema enorme del collegamento proprio con Secret Invasion enorme enorme così come l'apertura di un'incursione da parte di Darben che fondamentalmente utilizzando le due negabande apre un'incursione con l'universo degli X-Men potrebbero essere sottolineo potrebbero essere gli X-Men della trilogia prima della Fox perché c'è Hank McCoy di quel primo film di quella prima trilogia e perché quella si è aperta poi la richiuse va bene e Monica Carambo non si è accorta di un'altra incursione che dovrebbe essersi aperta prima con gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dove alla fine del film nella post credit si apre un'incursione e lei è andata dall'altra parte a chiuderla quindi raga bisogna che qualcuno là dietro inizia a mettersi lì e a tirare le fila di tutte le cose perché un conto è mi apri 20 strade differenti che poi ricollegherai perché hai tante figure tanti caratter da aprire e allora me lo apri e poi quando è il momento inizierai a tirare le fila da una parte e dall'altra mi fai collegamenti ma se nel momento in cui tu fai le varie trame e poi un film ti manda a puttane due o tre collegamenti oh ragazzi è un problema perché vuol dire che chi ha scritto uno non si è neanche collegato con gli altri non sa neanche che cosa è stato fatto in altri prodotti questo è un problema enorme enorme perché per un universo condiviso è una situazione enorme problematica problematica per il resto ragazzi se noi lasciamo perdere il lato di continuity e l'introduzione totalmente mancante il film è godibile perché comunque gli scontri ci sono sono divertenti tutta la parte per esempio nel pianeta come si chiama Aladna dove sembra praticamente di entrare a Bollywood con tutti questi con vestiti coloratissimi che parlano cantando e ballando è divertente e lì e lì secondo me Brilarson dà una bellissima prova mi piacerebbe vederlo in lingua originale per sentire Brilarson cantare perché qua c'è un effetto principessa Disney perché il parlato di di Captain Marvel e il cantato hanno una certa differenza tonale e quindi ti rendi conto che le due voci non sono le stesse e fa molto principessa Disney quindi io sono curioso di vedere come Brilarson ha dato la sua interpretazione il suo cantato proprio in quella scena però a parte queste parti divertenti e Kamala Khan che tiene in piedi tutto è un problema dietro l'altro questo film enorme enorme divertente la parte con i Flerken e anche lì bene ai Goose lo porti lì ma fammi capire che Goose praticamente è nella stagione degli amori e sta mollando giù uova le uova di Flerken arrivano così totalmente a caso e compaiono a cazzo di cane perché boh perché ce ne abbiamo voglia cioè si vede proprio che questo film che poteva essere un film molto piacevole molto interessante lo è ad un livello superficiale ma nel momento in cui si scende per andare a prendere un po' più di profondità e si cerca di capire i collegamenti di capire certe situazioni ci ritroviamo davanti a una scrittura pigra perché succede questo boh perché perché deve succedere no ragazzi lo posso fare io che non sono uno che fa per lavoro lo scrittore di storie ma uno che sceleggia film e che dovrebbe tenere la trama dovrebbe tenere tutto l'ordito del della sceneggiatura è un problema è un enorme problema enorme cose positive finali la parte dove è praticamente Kamala Khan sembra sbertucciare il Nick Fury del primo Iron Man andando da da Kate Bishop a dire abbiamo l'iniziativa Kid e creiamo gli Young Avenger dicendo ok Kate ho trovato un'altra persona la figlia di Ant-Man anche lei con queste abilità facciamo una squadra ci sta come ci può stare l'apertura verso i mutanti con Hank McCoy e Maria Maria Rambeau di un altro di un altro pianeta di un altro universo quindi binary in questo caso binary però dopo che ci arrivi con tanta merda queste situazioni dici ok mi hanno gettato due sassi per le prossime storie come verranno trattati questi sassi come verranno presi utilizzati ma soprattutto per vedere questa trama portata avanti devo aspettare la fase 6 devo aspettare 3 4 5 anni perché nel mentre hanno costruito tante trame non le stanno intrecciando inizia ad essere un problema perché nella fase 4 ci poteva stare l'apertura delle trame perché eri in un post endgame però in una fase 5 devi iniziare a quagliare devi iniziare ad incastrare e devi iniziare a far sì che tutte le trame si incastrino anche alla svelta perché altrimenti il pubblico poi se le dimentica se le dimentica totalmente quindi per me questo film è un film da 5 e mezzo le parti divertenti le parti godibili cioè io mi sono divertito al cinema onestamente queste parti però vanno a cozzare con le grosse problematiche che vi dicevo in questo film quindi diventa un po' problematico per me non raggiunge la sufficienza nonostante sia godibile rapido e si faccia vedere bene si faccia guardare bene però no ditemi voi ragazzi a voi vi è piaciuto non vi è piaciuto lo andrete a vedere non lo andrete a vedere mi raccomando se avete intenzione di andarlo a vedere andatelo a vedere anche se vi ho spoilerato veramente i punti cruciali se non avete intenzione di vederlo amen ok però non è che decidete che un signor nessuno come me vi dice no è una merda allora non lo andate a vedere se vi dico che è una merda a me ci sono alcuni film che per me sono una merda e a tanti piacciono quindi godetevi lì godetevi il cinema perché il cinema ha bisogno di gente che ci vada e che vada a vedersi certi film ecco il cinema avrà bisogno anche di film un po' più curati speriamo che con la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori dello sciopero degli attori le major inizino ad avere un pelo in più di consapevolezza e curino un po' di più il prodotto cinematografico e il prodotto marvel detto questo io vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni ciao belli e io che ero uscito molto contento da questo film poi ci ragiono ci penso e questo non va bene e quest'altro non va bene e c'è un aggancio che non funziona e c'è un problema dall'altra parte e ragionandoci a caldo è un film carino ma se ci si ragiona un pochino a freddo ci sono tanti di quei problemi che ce n'è un castigo e anche il doppio purtroppo davvero purtroppo perché il film in sé è anche godibile è anche godibile